I percorsi di anima d'autore sono anche molto imprevisti a volte perché abbiamo incontrato tanti autori, tanti poeti, chi scrive prosa nei nostri incontri ma in realtà poi gli intrecci delle anime arrivano anche in posti diversi dove l'arte non è quella poetica ma è un altro tipo di arte che vogliamo raccontare. Quindi io do il bentornato al nostro amico Alessandro Ramberti, nostro amico editore che proprio ci porta oggi a scoprire qualche cosa di davvero particolare. Abbiamo con noi un giovane maestro che abbiamo già incontrato, Elvis Spadoni, nato ad Urbino nel 79, ha frequentato il seminario di Rimini e viene ordinato diacono nel 2004 ma nel 2007 ritiene che la sua strada sia invece altrove. Si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Urbino dove studia pittura fino al 2011. Si sposta a Sant'Arcangelo, porta avanti la sua personale ricerca pittorica incentrata sui temi dell'Io e dell'identità, argomento che evidentemente non ha ancora risolto visto che è spesso presente nelle sue opere. A questa attività come naturale recupero della precedente vocazione e delle sudate carte affianca lavori e riflessioni legati al tema dell'arte sacra nella pittura contemporanea. Ha realizzato lavori di ispirazione biblica per il Museo dello Splendore di Giulianova, per il seminario Vescovile di Rimini e in ultimo un quadro esposto durante la settimana biblica di Ocesana dedicata al tema Eucaristia e Parola. Non sapevo che ci fosse un Museo dello Splendore a Giulianova, interessante come titolo. Madonna dello Splendore. Madonna dello Splendore. Il Museo dello Splendore. Bello, bello un Museo dello Splendore. Tra l'altro oggi Elvis parliamo proprio di quest'ultima opera che è stata esposta, per cui chi ha partecipato alla settimana biblica probabilmente ha avuto occasione di vederla, non so se poi c'è stata occasione anche con loro di raccontare questa opera, però in tanti magari non sono riusciti a venire alla settimana biblica, per cui oggi dal vivo, direttamente dall'autore, ci facciamo così spiegare anche come nasce questa nuova opera insieme in un'altra puntata di Anima d'Autore, in un vecchio ciclo. Avevamo presentato anche l'opera che hai realizzato per il seminario, quindi in qualche modo il tema liturgico, biblico, è fortemente presente nella tua arte Elvis. Sì, sì, come dicevo è anche un modo per recuperare degli studi, delle competenze, ma anche una sincera passione insomma che negli anni di seminario ho sviluppato e poi appunto c'è stata occasione di poter riversare questi contenuti, questa esperienza in un modo diversamente espressivo rispetto, non so, alla predica, all'omelia. Sì, mi è capitata questa seconda opportunità che rispetto a quella precedentemente che ho avuto dal seminario è stata molto, direi, molto più popolare, sia perché è nata proprio da un tema, da una tematica popolare che è quella della Biblia pauperum, quindi l'idea che attraverso dei dipinti, degli affreschi, come era nelle chiese, soprattutto di una volta, adesso è una pratica che purtroppo è caduta in disuso, era il modo con cui le persone non abitizzate, potevano imparare, ricevano una catechesi per immagini, quindi molto popolare, mentre il lavoro per il seminario è stata una cosa più, diciamo, ad intra per i teologi, infatti anche il modo di condensare il messaggio biblico è stato più criptico. Invece per la Biblia pauperum e per l'evento della settimana biblica ho cercato proprio di fare un quadro che fosse molto più predisposto al gusto popolare, diciamo, a una più facile lettura, anche se poi le cose si sono un po' complicate, perché la Biblia pauperum a cui la diocese si è ispirata per dare il tema alla settimana biblica non è semplicemente fare un'immagine per far vedere, non so, l'episodio del battesimo di Cristo o la crucifissione, ma è un testo, questo appunto chiamato Biblia pauperum, che presenta sempre tre episodi che convergono sullo stesso tema, un episodio preso dal Vangelo, che è quello centrale, e due episodi presi dall'Antico Testamento che hanno dei riferimenti all'episodio, diciamo, centrale, che nel caso della settimana biblica era l'ultima cena. E allora portaci dentro questa tua tela, Elvis, facci una, così, è bello perché avere l'autore che ti spiega l'opera, secondo me è una... Anche come ha scelto i personaggi. Esatto, proprio così, racconta. Sì, sì, perché appunto è nata, è stata una rivisita, mi avevano proposto di rivisitare questa pagina della Bibbia pauperum, che sembra un codice miniato, in chiave di pittura contemporanea. Allora, io l'ho spiegato un po' ai primi cinque minuti della settimana biblica, è stato proprio un accenno sui grandi temi su cui ho composto il quadro, però appunto c'è molto di più, insomma, se ne può parlare per diverso tempo. Comunque in breve, come si può vedere dall'immagine che la regia manderà, al centro abbiamo l'ultima cena, volerà presentare l'ultima cena, mentre a destra e a sinistra ci sono i due episodi che sono, nella fattispecie, allora a sinistra o a destra, adesso faccio un po' di confusione, a sinistra c'è comunque l'offerta di Melchisedec, questo sacerdote che offre pane e vino alla presenza di Abramo e dall'altro lato c'è invece l'episodio della manna, i popolani del popolo d'Israele che raccolgono la manna, ma in realtà non sono popolani perché gli ho voluto dare un'identità ben precisa. Allora, la cosa che mi ha convinto a fare questo quadro era che mi sembrava che le scene si potessero predisporre a dare una forte struttura, una composizione appunto che è palesemente speculare o chiasmica, nel senso se tracciamo una linea a metà, la parte destra e quella a sinistra sono sovrapponibili, mi sembrava ad essere quel senso di unità, di composizione che mi ricorda ad esempio la costruzione di un edificio che è composto da tanti elementi ma che insieme creano qualcosa, creano come una facciata unitaria, mi sembrava ad essere l'idea proprio di questi brani che si coalizzassero in un certo senso per dare un senso più forte o sottolineare il senso appunto della scena evangelica che è quella centrale. E poi un'altra cosa che mi ha convinto a dedicarmi a questo lavoro è stato quello che questi personaggi laterali che alzano le braccia, mi sembrava che richiamassero bene i cherubini che sopra l'arca dell'alleanza creano il luogo in cui Dio appare e quindi c'era questo gioco di rimandi che poi trattando dell'eucaristia, del rito, del sacrificio di Gesù, ritorna molto spesso il rapporto fra la nuova alleanza di Gesù e l'alleanza del popolo eletto che è rappresentata dall'arca dell'alleanza, quindi ho voluto molto richiamare i due... Anche i colori credo, no? Perché è molto giocato sul bianco e sul rosso, no? Sì, sì. Quello del bianco è un po' una mia fissa, nel senso a me piace molto che ha delle immagini molto sintetiche, quindi in genere lo sfondo scompare in questa luce quasi metafisica, una luce così dove ci può essere tutto, non ci può essere niente, ma è anche semplicemente una, come posso dire, un escamotage compositivo e anche le immagini sono molto illuminate, quasi mangiate dalla luce, in modo che le figure non siano appiccicate sulla tela, ma ci sia un po' di... si innervino un po' nella tela. Il rosso in realtà ha una scelta legata al tema delle... è un modo per sottolineare in ogni scena l'elemento principale, cioè legato la figura di Cristo, che poi la collego alla fine anche nella lettura sacerdotale di questo che do a questo dipinto. Infatti il panno rosso c'è la Melchisedec, che è una figura del Messia, c'è l'ha appunto Gesù, che sia nel vestito sia a questo tappeto e poi nella scena della manna il panno rosso è il panno con cui la manna viene raccolta, per indicare che appunto il panno rosso che sottolinea la presenza di Cristo ci indica nella manna, perché appunto perché ci sono questi due episodi che si riferiscono all'ultima cena, perché il Messia, il Melchisedec offre pane e vino, gli stessi elementi che ha offerto Gesù nell'ultima cena, ma anche e soprattutto perché Melchisedec è detto di Gesù che il suo sacerdozio è il sacerdozio di Melchisedec, ovvero eterno e perfetto, fuori dal tempo, è superiore al sacerdozio diciamo di Aronne, che questo lo spiegano le lettere agli ebrei, cerco un po', insomma il tema del sacerdozio viene messo in piedi da Melchisedec, mentre la manna, perché Gesù quando compie il miracolo dei pani, della moltiplicazione dei pani dirà voi siete venuti da me perché avete trovato da mangiare, ma come gli ebrei ricevettero la manna nel deserto e morirono, gli ebrei invece, le persone che ora vengono da me non moriranno perché io sono la vera manna, cioè la manna che ricevettero i vostri internati nel deserto è l'immagine di un pane che però vi farà vivere, vi darà la vita eterna e quindi c'è questo richiamo. Elvis vorrei tornare con te anche all'immagine centrale, quella dell'ultima cena, a cui poi si riferiscono anche i due episodi biblici, un'ultima cena molto solitaria. Sì, sì, esatto, beh il motivo è stato quello che il quadro non permetteva di inserire 12, ma in realtà non è solo questo, perché questa composizione è molto solenne, molto ali, cioè mettere Gesù fra i due cherubini, fra i due elementi che richiamano i cherubini vuole dire che Gesù è la nuova presenza di Dio, come Dio si manifestava fra i cherubini così Gesù è figlio di Dio, porta la presenza di Dio nel mondo e chiaramente i discepoli in questo caso vengono estromessi, quindi volevo sottolineare la sua solennità, ma poi volevo che i discepoli fossero le persone che Gesù guarda, cioè Gesù non ha discepoli intorno a sé, i suoi discepoli nel quadro sono le Sacre Scritture, che diciamo come i discepoli ti conducono a Gesù, così le Sacre Scritture all'Antico Testamento ti conduce a Gesù, i veri discepoli sono coloro che sono di fronte a Gesù, Gesù guarda lo spettatore perché volevo che fosse una figura solitaria ma al tempo stesso vocante, cioè io chiamo te a venire alla mensa perché sono solo, perché gli invitati non sono venuti, allora io cerco nuovi invitati e volevo richiamare, dato che il quadro doveva essere sul tema dell'eucaristia, a disposizione della liturgia cristiana, in cui c'è il sacerdote dietro l'altare e l'assemblea, anche per questo il tavolo è molto piccolo perché vuole richiamare l'altare eucaristico, oltre che ripresentare le misure dell'arca dell'alleanza, che sono più o meno quelle del tavolo. E adesso mi pare che tu stia portando in giro per la diocesi un discorso di questo tipo? Sì, dato che il quadro ha molte letture, abbiamo proprio con l'ufficio l'apostolato biblico e Don Davide Arcangeli che mi ha fatto la proposta di realizzare questo quadro, abbiamo l'intenzione di fare girare questo quadro per le parrocchie che avranno possibilità di ospitare, lanciamo anche da qui questo invito, se qualcuno volesse anche avere la possibilità di avere il quadro, ma anche di avere Elvis che poi lo può raccontare. Sì, l'idea è quella di dedicare una o due serate all'illustrazione, a fare una catechesi sul tema dell'eucaristia, del sacerdote, attraverso la spiegazione approfondita del quadro e tutte le sue dinamiche, tutte le sue strutture. Ad esempio c'è tutta una lettura legata alla vita di Gesù, fatta sovrascritta nelle scene della manna di Melchisedec. Ad esempio ho fatto sì che la manna potesse essere un'immagine della natività, quindi come la manna scende dal cielo, così Gesù è sceso dal cielo, infatti c'è Aronne che diventa Giuseppe, infatti mentre al modello chiedevo di tenere la manna gli dicevo fai una posa come se avesse un bambino, devi creare una specie di culla. Infatti il modello secondo me qualcuno potrebbe anche riconoscerlo, non lo svegliamo, lo lasciamo solo ai... Forse Gesù è più facile. No, ma in realtà no, perché non è Elvis, io l'ho riconosciuto perché lo conosco bene questo modello, però tra l'altro ha questo anche secondo me espressione biblica, il modello che hai utilizzato. Sì, sì, li ho cercati attentamente perché dovevano avere un'anima biblica. Quindi ricevi questo richiamo proprio anche alla natività. Sì, esatto, ad esempio Aronne ha il bastone fiorito come simbolo, nelle icone, Aronne è rappresentato come bastone fiorito, ma nelle chiese cristiane il bastone fiorito è l'elemento che caratterizza Giuseppe, quindi questo mi ha aiutato anche usando la geografia a creare questo legame. Oppure le monete che ci sono nella scena di Melchisedec rappresentano la decima, perché in quell'episodio Abramo diede a Melchisedec la decima, ma io ho disegnato facendo una piccola operazione a modi codice da Vinci, se la decima sono tre monete, le monete totali sono trenta e questo dovrebbe subito rimandare all'episodio della passione. I trenta denari. I trenta denari e infatti l'episodio di Melchisedec in cui Melchisedec offre pane e vino deve essere, può essere riletto come la scena della passione, quindi il momento in cui Gesù offre se stesso e ai suoi piedi, in questo caso ci sono le monete di Giuda, ma c'è anche il centurione che professa la fede in ginocchio di fronte a colui che leva il suo corpo. Vedete quante cose belle emergono da un quadro, da una tela. Anche quanto lavoro e studio c'è. Credo che sia davvero affascinante. E poi la cosa bella è che rimane sempre qualcos'altro, cioè una tela non rimane mai solo all'intenzione dell'autore, ma davvero ciascun fruitore può arricchirla con questa sua nuova lettura, perché forse lo stesso Elvis ogni tanto si, non so se ti capita, stupirti di che cosa dicono gli altri delle tue opere. Ho letto quella cosa e magari tu non ci avvi neanche pensato. Non so se ti è mai capitato, che mi hanno dato anche delle letture al di là delle tue intenzioni. Sì, la cosa un po' mi disturba, perché io ho una mente, sono un po' manioco del controllo, quindi quando faccio un quadro voglio assolutamente dominare la sua. Però mi rendo conto che, ma in realtà io sono la prima vittima di questo, cioè faccio un quadro e poi mi rendo conto, anche molte cose che poi ho letto nella Bibbia paper, ma all'inizio non le avevo pensate, ma ho visto che andavano in casta. Tra l'altro Elvis, visto che abbiamo pochissimi istanti, però ci tenevo a dire anche questo tuo nuovo progetto, ti troviamo senza barba e con i capelli un po' più corti, ma c'è un motivo artistico, diciamolo? Sì, perché praticamente, come dicevo anche altre volte, io mi dedico molto all'autoritratto, anche nella Bibbia paper, Gesù Cristo sono io che lo interpreto, e per fare, interpretare il ruolo di Gesù ho dovuto farmi crescere i capelli e la barba lunga. In questo caso invece mi sono riplasmato le mie sembianze in una modalità diciamo più pretesca, perché uno degli ultimi quadri che farò vuole parlare del mio rapporto con il ruolo del prete, richiamando una figura diciamo dei film di fantascienza che è molto simile, il Jedi, quindi all'inizio mi ha detto il maestro, ho pensato sul maestro Jedi. L'hai fatta apposta. E quindi per questo sono tornato a questo look che mi è un po', non mi è molto, mi trovo meglio diciamo... Più libero diciamo. Però esigenze artistiche, questo e d'altro. Elvis, per noi è stato un piacere averti qui, davvero ti auguriamo che questa, ha anche possibilità di incontro, di relazione che si instaurerà nelle parrocchie, ma anche in altri luoghi dove poi porterai le tue opere, davvero possano essere nuova linfa anche per nuove opere. Noi ci fermiamo qui, la nostra anima d'autore torna in un prossimo appuntamento. Elvis, grazie davvero. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo e come sempre grazie per la tua grande sensibilità artistica. Buonanima a tutti, alla prossima. Grazie a tutti.